Musica Presenti 24, astenuti nessuno, votanti 24, Melpignano a 16 voti, buongiorno a 8. Da pochi minuti eletto Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Ustuni, Angelo Melpignano, dopo una seduta abbastanza accesa, quella di questo pomeriggio, 16 voti, 8 per Marina Buongiorno, indicata dalla parte socialisti civiche, intanto auguri il suo messaggio a questo Consiglio Comunale. Innanzitutto voglio esprimere come ho fatto in Consiglio Comunale il ringraziamento al mio partito e ai consiglieri comunali del Partito Democratico, voglio ringraziare anche chi mi ha votato e ho ovviamente garantito la mia imparzialità nei confronti di tutto l'intero Consiglio Comunale. Sono contento, non per la mia elezione a Presidente del Consiglio Comunale, ma sono contento perché finalmente dopo al terzo tentativo, al terzo Consiglio Comunale, sempre sugli stessi toni e sulle stesse acceso, nello stesso modo, i due precedenti, finalmente il Consiglio Comunale comincia a mettere i primi passi e quindi si avvia questa nuova consigliatura con un Presidente eletto con i voti sì del centro-destra, ma del Partito Democratico che rivendica e conserva la sua propria connotazione di partito di centro-sinistra. Quale sarà la collocazione del Partito Democratico rispetto ai prossimi step? Lavorerete su linee programmatiche oppure deciderete man mano nel tempo? Il Partito Democratico è ribadito in questa sede, in questo Consiglio Comunale, che non esiste alcuna intesa e alcun accordo né politico né programmatico con il centro-destra, ma il Partito Democratico si pone con senso di responsabilità ad avviare i lavori di questo Consiglio Comunale, che rimangono tutti a carico del centro-destra, con uno spirito collaborativo, così come avverrà fra poco sulla Tasi. Il Partito Democratico ha esaminato le carte, ha studiato le carte e quindi ha elaborato anche una proposta. Siamo convinti che su questo binario il Partito Democratico potrà dare un apporto alla città per il bene di questo nostro territorio. Per colpa nostra abbiamo perso del tempo, perché l'occasione l'avevamo già al precedente Consiglio Comunale, però diciamo che questo percorso molto più faticoso è servito a chiarire definitivamente come una parte politica dell'opposizione sia perennemente strumentale in alcune scelte, anche mettendo in ballo dei nomi onorabili di consiglieri solo per l'obiettivo di non far governare questa città. Questo significa che la mia scelta iniziale di interloquire e dialogare con un partito serio, quale ritengo sia il Partito Democratico, ha pagato. Col tempo ha pagato, anche se siamo nei termini anche temporali. Io ricorderò a qualcuno dei meno accorti, dei meno attenti, che cinque anni fa, a novembre, che è stato eletto il Presidente del Consiglio, quindi se qualcuno vuol far passare questo tergiversare come una perdita di tempo, questo è un chiaro segnale ai cittadini ostunesi che stiamo facendo le cose per bene e seriamente, perché noi vogliamo seriamente governare con questo Paese e ho detto da primo momento, con tutti coloro, io non ho preclusioni nei confronti di nessuno, compreso il 17 marzo, altri consiglieri che un domani volessero aderire a questo progetto per il bene di Ostuni. Sicuramente non dialogherò con coloro che ancora continuano a diffamare o a usare epiteti che con la politica non hanno niente a che fare. Anche stasera abbiamo avuto uno spaccato indecoroso di come qualcuno dall'alto di una presunzione, non so derivante da quali presupposti, visto e considerato che è stato letteralmente sconfessato dal voto degli elettori, continuava ad ergersi quale il migliore in assoluto definendo tutti gli altri o gli altri che non la pensano come lui, come i netti che non porteranno nessun beneficio al Paese. Ostuni sta respirando un'aria nuova e con questa serata, con questo Consiglio Comunale, un nuovo scenario si è aperto nel panorama politico-amministrativo di Ostuni. Nell'oderno assise si è concretizzato ufficialmente quello che noi paventavamo da tempo e cioè un accordo preesistente tra il Partito Democratico e la maggioranza di centrodestra che ha suggellato l'elezione di Angelo Melpignano a Presidente del Consiglio. Noi dal canto nostro abbiamo cercato di scongiurare il perfezionarsi di questa strategia a nostro avviso sbagliata, politica, attuata dal Partito Democratico indicando un candidato dello stesso Partito Democratico nella persona di Marina Buongiorno. Purtroppo però tale tentativo di riunire il centro-sinistra e quindi di eleggere Marina Buongiorno e ricostituire la maggioranza all'interno del Consiglio non è riuscita perché il Partito Democratico ha inteso continuare sulla strada già intrapresa da tempo e quindi votare Angelo Melpignano come Presidente del Consiglio. Secondo te che scenari di politici si aprono adesso? Il dato positivo è che attualmente abbiamo in Consiglio Comunale il monopolio dell'opposizione quindi il nostro gruppo coeso e compatto sarà una spina nel fianco di questa nuova amministrazione composta da centrodestra e Partito Democratico. Quindi ci assumiamo la responsabilità di svolgere coerentemente e sapientemente il ruolo di oppositori di questa maggioranza.